L'ultimo round del mondiale Superbike si è corso a Portimao in questo weekend tra settembre e ottobre in un mondiale per quanto riguarda la classe regina che di fatto è chiuso non per la matematica, invece per quanto riguarda la Supersport e la Supersport 300 i giochi sono di fatto venuti al termine e di conseguenza partiamo per una volta dalle categorie propedeutiche per parlare dei mondiali chiusi perché la Supersport 300 ha chiuso la stagione 2023, la Supersport 600 o Next Gen come sarebbe giusto chiamarla l'ha chiusa con un round di anticipo e la Superbike per due punti è ancora aperta ma andiamo con ordine partendo per una volta dall'ultima gara che si è svolta quella della domenica pomeriggio chiusa di fatto poco tempo fa, Jeffrey Buiz per la seconda volta della carriera è campione del mondo della Supersport 300 l'olandese 21enne è di fatto uno specialista di questa categoria, ha fatto una buona gara in sabato pomeriggio quindi una gara 1 solida, in gara 2 ha finito per concludere in undicesima posizione e col fatto che il suo diretto avversario lo spagnolo José Luis Pérez González non ha vinto ma è arrivato secondo, appunto Jeffrey Buiz è il campione della categoria, bi campione del mondo della categoria sarebbe più giusto dire perché appunto nel 2020 ha vinto il primo titolo, ha corso praticamente sempre in questa categoria tranne l'anno scorso che è saltato in 600 ma senza risultati ottimali, anzi era più spesso in fondo che in testa, è tornato indietro e ha vinto peraltro dello stesso team dove l'anno scorso a Portimao peraltro scomparve, Victor Steeman altro pilota olandese del team MTM Motorsport, pilota velocissimo che avrebbe meritato sicuramente migliori fortune ma appunto Steeman venne meno, Buiz è tornato indietro per anche ricordare il connazionale e vincere il titolo in suonore ebbene lo ha fatto con una gara da compitino nella domenica pomeriggio, in gara 2 è arrivato undicesimo con appunto lo José Luis Perez Gonzalez in seconda posizione, Jeffrey Buiz in questa classifica in realtà è aggiornata a sabato pomeriggio ma cambia poco perché alla fine il pilota olandese ha vinto con 7 punti di vantaggio su Perez Gonzalez, rimarrà peraltro in categoria perché appunto l'ho detto prima è uno specialista e correrà in KTM del team Freudenberg, quindi una delle moto più competitive calcolando che in terza posizione assoluta sia classificato Dirk Geiger o meglio in realtà in quarta perché chi ha vinto gara 1 e gara 2 è il nostro italiano Mirko Gennai che non vinceva da Barcellona a Catalunia quindi suona il canto degli italiani per il pilota toscano che appunto va a vincere gara 1 davanti al suo campanato di squadra Marco Gaggi, parliamo di Yamaha, team BR Corse e appunto José Luis Perez Gonzalez che appunto aveva limitato i danni con Buiz ottavo, Buiz in gara 2 finisce undicesimo, Perez Gonzalez avrebbe in realtà anche vinto gara 2 ma viene retrocesso in una posizione per una prova scorretta proprio su Mirko Gennai e di conseguenza Gennai arriva in prima posizione, arriva terzo assoluto perché Geiger fa terzo in gara 2 ma appunto non basta per difendere il brunzo ridato e di conseguenza il migliore italiano è il pilota toscano Mirko Gennai, Yamaha BR Corse, un pilota che può comunque crescere sempre in questa categoria. Chi crescerà sicuramente invece nella propria carriera è il campione del mondo della Supersport Next Gen ed è il pilota nativo di Montecchio Emilia Nicolo Bulega che è arrivato qui l'anno scorso sempre con la ducata del team Aruba, quest'anno ha di fatto più o meno fatto quello che ha fatto Bautista in Superbike ovvero dominando praticamente la maggioranza delle gare, qui ha fatto praticamente la stessa cosa in gara 1 che era quella che matematicamente poteva assegnargli il titolo ed effettivamente è stato così in una categoria dove la Ducati evidentemente l'ha spiegata tantissimo visto anche il Mondiale Costruttori vinto sia in Superbike sia in Supersport è arrivato anche il titolo piloti con Nicolo Bulega che l'anno prossimo ricordo sarà in Superbike, compagno di squadra di Alvaro Bautista al posto di Michael Rinaldi Bulega domine lungo e largo la gara che doveva vincere quindi la gara del sabato pomeriggio ancora una volta suona il canto degli italiani, il suo diretto avversario Stefano Manzi fa quello che può e arriva in seconda posizione ma avrà modo di riscattarsi in gara 2, arriva invece il primo podio in carriera in Supersport Next Gen per Jorge Navarro compagno di squadra di Stefano Manzi, Yamaha del team Tencate ricordo che la chiamo Supersport Next Gen perché appunto abbiamo moto di diverse cilindrate la Ducati è una 955 V2 depotenziata, c'è la Triumph 765 tre cilindri c'è anche l'MV Augusta F3 800 depotenziata le 600 vere proprie che era la cilindrata canonica della categoria fino a due anni fa sono soltanto la Yamaha R6 e la Kawasaki ZX6 i risultati invece della gara 2 sono i seguenti Manzi complica anche un Bulliga che fa una gara un pochino più accorta vince e comunque regala un successo personale importante per colui che evidentemente rimarrà in questa categoria di Supersport 600 Bulliga comunque è la campione del mondo fa una seconda posizione, arriva invece la terza piazza per Yari Montella e l'ennesima trippetta italiana per una categoria, quella della Supersport che tendenzialmente vede italiani primeggiare ha primeggiato in questo campionato Nicolo Bulliga pilota che ha vinto già un titolo di Moto3 Juniores quando era praticamente poco più che un ragazzino nel 2015 è andato in Moto3 con tantissima pressione con tantissime aspettative ha più o meno fallito in Moto2 probabilmente non c'è neanche arrivato se c'è arrivato ha fatto anche lui fatica esattamente come Bullis in Supersport 600 è arrivato dopo tanta fatica in quel paddock del moto mondiale in Supersport ha fatto qualche podio l'anno scorso e con poi il pacchetto Ducati Aruba vincente anche in questa categoria evidentemente ha trovato la quadra e di conseguenza la sua carriera sarà nelle derivate della serie ed è un percorso visto anche da altri piloti vedi per esempio Andrea Locatelli che comunque sta facendo molto bene in Yamaha ufficiale Superbike e a proposito di Superbike parliamo di quello che è successo nelle gare di Portimao perché Bautista fa l'ennesima tripletta del suo campionato una tripletta però che non permette allo spagnolo di bissare il tutto del mondo dell'anno scorso perché per soli due punti quello che è arrivato secondo nelle tre competizioni ovvero Top Ragnarziatioglu si è inventato delle gare assurde segno che il turco è veramente un fenomeno e ha fatto quello che poteva per limitare i danni contro questo Bautista che aveva un quarto settore spaventoso in particolare nella percorrenza dell'ultima curva che permetteva allo spagnolo di accelerare prima rispetto a Razgatioglu e di conseguenza averla meglio di chiunque avesse a tiro Bautista fa l'ennesima tripletta è ovviamente destinato al titolo del mondo a Eretz della Frontera ultimo round della stagione la matematica semplicemente tiene aperta una minima chance anche se ovviamente sarà titolo ancora una volta per lo spagnolo un Bautista che fa tripletta ma fa tripletta in tre modi diversi in gara 1 quella di cui vediamo le immagini peraltro dove Ducati ha vinto il titolo costruttori in Superbike evidentemente ha dominato come al solito e quello che stupisce in realtà è come ha vinto le altre due gare perché le immagini più interessanti sono queste quelle del testa a testa tra Razgatioglu e Bautista perché sia in Superpool Race sia evidentemente in Sprinter o meglio in gara 2 è riuscito tranquillamente a fare quello che voleva rispetto a Razgatioglu nonostante soprattutto in gara 2 Bautista fosse decisamente impiccato Bautista entrambe le gare le vince al photo finish in gara 1 della domenica quindi la Sprint Race la vince di fatto superando il turco all'interno e andando a sfruttare la potenza del motore Ducati sul rettilineo quello che è più clamoroso invece è il sorpasso all'esterno all'ultima curva che fa in gara 2 Razgatioglu è impiccato ma riesce comunque tramite i primi tre settori ad avere una percorrenza migliore la Yamaha era molto ben settata in quel settore di pista e riusciva evidentemente a far sì che il turco stesse davanti allo spagnolo Bautista fa comunque l'ultimo giro da panico arriva appiccicato a Razgatioglu l'ultima curva lo passa dall'esterno e riesce a vincere una manovra sensazionale i punti di distacco guadagnati in quel frangente sono soltati 10 e quindi più 60 quando poteva essere in realtà più 50 Razgatioglu ha fatto due gare da fenomeno la domenica pomeriggio ed evidentemente probabilmente meritava qualcosina in più il turco probabilmente dovrà abdicare ancora una volta al titolo del mondo perché nonostante delle gare assurde alla fine ha vinto ancora una volta Bautista che al termine del weekend di Portimao colleziona 566 punti più 60 con 62 in palio all'ultimo round di realizza la frontiera evidentemente basterà aspettare sabato pomeriggio per celebrare ancora una volta il 38enne campione del mondo la seconda volta con la Ducati sono 56 se non sbaglio le vittorie in carriera per Bautista di fatto tutte con Ducati e si sa inevitabilmente in uno dei più vincenti piloti della superbike calcolando che Bautista vergogna questo paddock in realtà da 5 stagioni perché parliamo dal 2019 il vero fenomeno però è top alla Gazzatioglu perché se con una moto tecnicamente inferiore a questa Ducati che per il pacchetto che ha dovrebbe stradominare riesce a start avanti comunque a Bautista per la Gattati della gara e riesce a difendersi e fare dei podi con un ruolo di marcia che lo vediamo qui davanti è impressionante non ci fosse Bautista la Gattaco sarebbe campione del mondo senza se e senza ma la dice molto molto lunga su quale sia il futuro del campionato dell'arrivata della serie perché Bautista e Ray sono fenomeni ma sono decisamente molto anziani la Gazzatioglu è molto più giovane ha già visto vincere con una moto inferiore quindi vedremo cosa svilupperà il mercato l'anno prossimo e sarà molto interessante ma ovviamente ne parleremo dopo la panoramica del weekend di Portimao andiamo a riassumere dunque i podi perché sappiamo che Bautista e la Gazzatioglu sono sempre in seconda posizione in prima o meglio primo Bautista secondo la Gazzatioglu in terza posizione abbiamo Jonathan Ray che è stata un po' una mezza delusione in realtà di questa gara di Portimao perché podio sì in gara 1 partendo dalla pole position in gara sprint di fatto di fatto elimina da solo perché cade insieme a seconda squadra Alex Lowes e poteva essere secondo me un buon turning point questo di Portimao per Jonathan Ray per essere un arbitro del mondiale e tenerlo ancora vivo perché Bautista è vero che vince ma senza le Kawasaki è stato un pochino più facile con la presenza di Kawasaki di Ray e Kawasaki di Lowes secondo me Bautista avrebbe avuto un pochino più di difficoltà nella gara sprint che appunto ricordo era lunga la metà rispetto alla gara canonica il podio invece di gara 2 lo completa Michael Rinaldi che partiva in sesta posizione dopo la medesima posizione in gara sprint e fa un buon podio in gara 2 sperando che possa bastargli per evidentemente fornirgli un contratto l'anno prossimo per un mercato e qui apriamo la pancia del 2024 che per quanto riguarda le 4 casi ufficiali esclusa Honda che ha già confermato i piloti ha di fatto sparigliato tutte le carte perché sappiamo perfettamente che in Ducati esce Rinaldi ed entra Bulega ma Bulega è un secondo pilota la star evidentemente è Bautista senza serie senza ma chi evidentemente fa sparigliare le carte nel mercato sono il fenomeno top Razziatioglu e il cannibale Jonathan Ray perché sappiamo che Razziatioglu andrà in BMW peraltro è stato annunciato Razziatioglu sarà in BMW ufficiale al fianco di Michael van der Mark con Scott Redding che viene in retrocesso nel team Bonavo Racing team clienti al fianco di Garnet Gerlof apro parentesi Garnet Gerlof è il mio rider of the weekend a mani basse perché ha fatto delle prestazioni nelle due gare lunghe straordinarie ha fatto rivedere quegli sprazi di velocità che ha fatto vedere in Yamaha GRT e attenzione perché se la BMW diventa quadrataticamente può crescere non solo con Razziatioglu ma anche con questo Garnet Gerlof che secondo me è ancora un talento inespresso e arriverà appunto Razziatioglu va in BMW Jonathan Ray andrà in Yamaha al posto di Razziatioglu al fianco di Andrea Locatelli questo è evidentemente un gran bello scenario perché aggiungiamo il fatto che in Cavasacchio ufficiale andrà Axel Bassani di cui dobbiamo parlare attenzione perché secondo me i quattro top team ovvero Kawasaki Ducati Yamaha e BMW non in quest'ordine hanno veramente una superstar Bassani un po' come Razziatioglu fu molto futuribile Razziatioglu in realtà è presente il futuro della superbike Bassani è prevalentemente il futuro della superbike è vero che in questa gara di Portimao ha fatto molta fatica con la Ducati del team motocorsa ma appunto ricordiamo corre con la Ducati del team motocorsa team privatissimo e vediamo che Tolte Bautista la miglior Ducati è quella del pilota Veyton 23N che dopo tre anni in questa categoria farà il grande salto di qualità andando a sostituire il più grande di sempre il cannibale Jonathan Ray e sarà un bel fardello per Axel Bassani ma sono veramente tanto curioso di vederlo secondo me Bassani una moto ufficiale potrà fare tanto tanto bene di conseguenza vedere quattro casi ufficiali con quattro superstar quindi Bautista Bassani Razziatioglu e Ray sarà veramente un grande viatico per la stagione Superbike 2024 per uno 2023 che invece volge al termine e vedrà soltanto l'ultimo round di Arez della Frontera a fine ottobre per decidere o meglio per vedere quando Bautista vincerà il titolo del mondo 2023 bissando quello del 2022 Arez si correrà in realtà in contumacia del campionato di Argentina che è stato cancellato per motivi politici chiudiamo il weekend invece di Portimao appunto con la panoramica dei nostri rider italiani Andrea Locatelli fa comunque una buonissima prestazione evidentemente in gara sprint con il podio evidentemente non citato in precedenza me ne scuso lo facciamo adesso Locatelli è una solida realtà di questo campionato Superbike e lo si conferma ancora una volta ha 50 punti in realtà di svantaggio rispetto a Jonathan Ray non riuscirà evidentemente arrivare in terza posizione ma Locatelli è il primo degli umani siccome i tre big three sono sempre in quelle posizioni lì grande stagione per Andrea Locatelli un po' in colore forse gara 1 a Portimao ma ha fatto comunque un'ottima prestazione di passare abbiamo già detto ha fatto fatica qui a Portimao per una Ducati del Dino Motocorsa che non si è adattata molto bene al trattato portoghese Rinaldi ha fatto un grandissimo podio in gara 2 e speriamo possa appunto guadagnare un contratto per l'anno prossimo Petrucci ha fatto una gara di rimonta per quanto riguarda la domenica pomeriggio in gara 2 ha fatto delle prestazioni invece in colore per quanto riguarda gara 1 12 posizione gara sprint fuori dai punti 15esimo Lorenzo Baldassarri centra punti in gara 2 13esimo con la Yamaha del GMT 94 per il resto ha fatto palo in zona punti Baldassarri due volte 16esimo c'era anche Gabriele Ruiu che ha fatto delle prestazioni intorno alla 20esima posizione Gabriele Ruiu ricordiamo Wildcard con la BMW del team B-Max Racing abbiamo dato apparentemente già dei premi per il rider del weekend uno è sicuramente Garrett Gerloff per le grandi prestazioni due quarti posti che vanno secondo me menzionati menzione per Remy Gardner che con la Yamaha del team GRT sta avendo ragione di Dominic Gerter che ha dominato la Supersport 600 negli ultimi due anni e ha fatto una grandissima prestazione evidentemente in gara sprint e evidentemente il driver of the day per quanto riguarda l'altro premio in gara 1 lo possiamo dare evidentemente a Locatelli appunto per essere il primo degli altri già detto prima di solito i tre big three Bautista la categoria sono sempre sul podio chi si inserisce qui e lì nelle gare sprint o gara 1 ha comunque dei premi da ottenere e di conseguenza Locatelli merita di essere premiato in questo penultimo round della stagione il prossimo round ricordo ancora una volta sarà il race della frontiera weekend del 29 e 30 di ottobre e ovviamente ci sarà il racing podcast per concludere evidentemente la stagione della Superbike in attesa ovviamente del pagellone finale di proiettarci verso il 2024 fatemi sapere cosa avete pensato della Superbike dei vari titoli del mondo che abbiamo assegnato in questo weekend di Portimao tra Bullega in Supersport e Jeffrey Buiz ancora una volta in Supersport 300 il saluto da parte di Matthew Thorgaard ci vediamo al prossimo video